La terna arbitrale non si presenta e il triangolare è stato annullato. A Sansepolcro avrebbero dovuto affrontarsi i padroni di casa, l'Arezzo e la Virtus Francavilla, società di Lega Pro in ritiro proprio in Valtiberina. L'assenza del direttore di gara e degli assistenti di linea ha però impedito alle squadre di scendere in campo e dopo tre quarti d'ora di attesa e verificata l'impossibilità di reperire un'altra terna arbitrale, è stato comunicato agli spettatori che potevano uscire dallo stadio e lo hanno fatto dopo essere stati immediatamente rimborsati del biglietto di ingresso. Da chiarire ora le circostanze che hanno causato questo contrattempo. La società bianconera ha parlato attraverso il suo presidente, che ascoltiamo Giorgio Lacrimini. Ma fondamentalmente non sono arrivati gli arbitri, giustamente abbiamo preso atto di questa cosa e nei prossimi giorni approfondiremo tutte le cause e i motivi. Dispiace perché poteva essere una bella giornata di sport con due formazioni professionistiche e dispiace soprattutto per il pubblico che era intervenuto numeroso. Prendiamo atto di questa cosa e come ripeto noi da parte nostra abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare a livello burocratico, a livello amministrativo e a questo punto ognuno prenderà le proprie responsabilità. Insomma una Serie D che sicuramente non comincia nel migliore dei modi anche perché è arrivata la voce ancora non ufficiale che il campionato di calcio di Serie D che avrebbe dovuto cominciare domenica 3 settembre potrebbe slittare di una settimana a domenica 10 settembre per i numerosi ricorsi che saranno da esaminare proprio intorno alla fine di agosto. Staremo a vedere.